Salve, molte volte mi capita di dare un'occhiata al mio desktop annoiandomi nel vedere sempre la stessa statica immagine. Se avessi un video come wallpaper da vedere in background questo cambierebbe. Beh, dal momento che ho trovato la strada per raggiungere facilmente tale risultato ve lo spiegherò, per cui vi chiedo di fermarvi un attimo, di rilassarvi e vi assicuro che questi saranno i 3 minuti spesi meglio della vostra vita. Il mio nome è Nicola Scanni. Con un attestato in multimedia e una passione per la tecnologia ho la tendenza a divulgare ciò che ho imparato nel modo più semplice possibile. In questo tutorial utilizzeremo un programma Media Player chiamato VLC. Se non lo avete ancora andate su Google, digitate VLC e scaricatelo, non ve ne pentirete. VLC Media Player è sicuramente il lettore multimediale più popolare che c'è, con la possibilità di cambiare la lingua con quella che preferite e il set più completo di codec incorporato, è possibile riprodurre quasi tutti i file video e audio in circolazione. Altre funzioni includono lo streaming, la transcodifica, la conversione e la registrazione. Quello di cui mi accingo a parlarvi oggi è tuttavia come impostare un filmato o un video come sfondo per il desktop. In primo luogo scegliete un filmato o un video che vi piace veramente e inseritelo nella vostra cartella preferita. Aprite VLC, andate su Media, apri file e poi sfogliate fino a che raggiungete la vostra cartella preferita scegliendo il file video da impostare come sfondo per il desktop. Fate clic su ok e quando il video inizia mettetelo in modalità pausa. Il video che ho scelto per questo tutorial è breve ma cliccando qui in basso posso fare clic una volta per alternarlo tra no loop e un loop e due volte per scegliere loop infinito. Ora fate clic con il pulsante destro del mouse sul film e nel menu di scelta rapida andate su video scegliendo imposta come wallpaper. Dal momento che ho scelto loop infinito avrò il mio video in play per sempre e quando mi sarò stufato di guardarlo potrò sempre fare clic con il tasto destro sull'icona VLC che trovo nella barra inferiore chiudendola. Alcuni di voi potrebbero chiedersi ma non è lo stesso se si riproduce il video e basta? Beh no non lo è. Con il video impostato come wallpaper si possono aprire le cartelle, aprire i browsers e fare qualsiasi altra operazione diversa si desidera senza interferire con quel che si vede in background. La versatilità, le prestazioni e la piattaforma di VLC rendono realmente questo media player adatto a tutti i tipi di utenti. Inoltre se si considera che ha un basso consumo di risorse e una grande stabilità diventa superfluo addirittura promuoverlo ulteriormente. In questo tutorial vi ho mostrato che le prestazioni del VLC media player sono veramente interessanti. Il prossimo mese ho un programma di dirvi come farlo utilizzando il vostro cellulare android o ipod. Bene se avete gradito il mio tutorial non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Ricordate che ogni primo weekend del mese troverete un nuovo tutorial online qui sul mio canale youtube. Se avete domande lasciate pure un commento vi risponderò il più presto possibile. Grazie a tutti per l'ascolto e godetevi il vostro video come wallpaper gratis grazie a VLC media player. A presto ciao